Questa è la 610esima puntata, nonché la puntata numero 610 della trasmissione muto come un pesce serale, estivo. Perché è serale? Perché siamo già alle 21.50 del giorno 31.07.19. Stasera, essendo una serata di fine luglio, approfittiamo a fare qualche puntata di talk. Questa è, senza sigla, perché è un talk. Alla prima puntata di Giorgettina, fatta alla fine del 2017, sono state fatte 447 visualizzazioni. Ciò, ancora una volta e come sempre, sono molto contento che voi tutti mi avete seguito, mi state seguendo e continuerete a seguirmi, il tutto per via col canale, che sappiamo da un anno e mezzo. Nel corso di queste tante puntate ho svolto 34 mie canzoni. L'ultima canzone che ho fatta è stata proprio ieri, con il titolo Una pazza insultante. A giugno ho fatto un'altra mia canzone, intitolata Gigliola a Roccalomera, e quest'ultima l'ho dedicata alla cugina di quel mio carissimo amico commercialista. Nel corso di queste tante puntate, abbiamo fatto qualche puntata extra. La puntata extra sarebbe la passione per i canoni. La passione per i canoni è quella di osservare i canoni che transitano in autostrada, sia sulla corsia nord che in quella sud. Abbiamo fatto varie puntate extra, appunto, per farvi divertire e distrarre. Alla prossima settimana, non tutti i giorni andremo in onda, perché ad agosto la gente va in vacanza. Le città si svuotano, ed anche nel periodo di ferragosto. Nel periodo di ferragosto, in tutte le città grandi e piccole, sono vuote, nel senso che non c'è proprio nessuno, perché la gente parte e va in vacanza. Io spero di andare in vacanza quest'anno, almeno una settimana. Sono venuto a sapere, nei giorni scorsi, che l'avvocato Carminati non è sceso, però questa settimana, nei giorni scorsi, c'era il fratello del regista che ha fatto le dieci dell'avvocato. Vale a dire, sostituto come regista. Alcune delle mie canzoni sono state raccolte, come ho detto in uno dei miei talk, da alcuni brani del guardiano del fratello. Mentre alla prima serie della trasmissione ho cantato tutte le canzoni italiane, in questa seconda serie, invernale ed estiva, ho cantato qualche canzone in inglese. Questo l'ho detto in una dei miei talk e ho ripetuto questo non per ripetere le stesse cose, ma in realtà per aggiornarvi meglio. Io spero che voi tutti mi avete seguito, mi state seguendo e continuerete a seguirmi il tutto per via quel canale, che sappiamo bene da un mese, bene da un anno e mezzo. Non in tutte le puntate c'è la sigla di testa, ma la sigla di testa l'ho creata alla fine di febbraio del 2019. Prima di fine marzo c'è stata la cosiddetta paperissima frittata, nel senso che aveva sostituito il nome alla nostra trasmissione, da muto come un pesce a possa via Trebisacce. E questa è la frittata, ma lì mi sono arrabbiato. Il regista, l'avvocato Carminati si era arrabbiato e la colpa è stata, che l'ho perdonato con piacere, del commercialista, amico mio. Grazie, non so come ringraziarvi di aver partecipato a tante puntate, sono stato contento, sono stato contento che voi tutti abbiate partecipato con piacere. E per coloro che hanno affittato gli appartamenti e le case a luglio auguro un buon rientro a casa. E per coloro che affittano gli appartamenti e le case ad agosto una buona vacanza lunga e buon divertimento. Anche se la puntata è durata qualche minuto in più, mi scuso con il regista. Stasera, alla termissione Talk, di fine luglio, è offerta dalla Carlo Magno, concessionaria Fiat Jeep, Lanci e Alfa Romeo. Conta da Lecco, Zona Industriale. Signori e signori, alla prossima e non so quando ci rivedremo. Come ho detto nei giorni scorsi, noi andremo in vacanza dal 10 al 25. Per il momento, se non ci dovessimo vedere nei prossimi giorni, auguro a tutti quanti voi un buon agosto e un buon ferragosto. Alla prossima e vi voglio bene un bacione dal vostro umano. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.